Buongiorno, oggi vi presentiamo qui da noi in Autosmile una vettura in pronta consegna è una Honda Jets, il 1500, cambio automatico il CVT, potenza 109 cavalli potenza massima ovviamente con i due motori elettrici e benzina allestimento esecutivo, adesso andremo alla scoperta è una macchina incredibilmente tecnologica e vi farà risparmiare molti soldi sulla manutenzione e sull'utilizzo cerchi in lega da 16 pollici, fari led, sensori di parcheggio anteriori e posteriori favolosa in questa tonalità bianco metallizzato retrocamera anche posteriore guardate che belli i gusci degli specchietti cromati antenna pinna sul tetto ovviamente scusateci queste pellicole protettive sia sul tetto che sul cofano ma la macchina è nuova vetri posteriori oscurati la vettura è dotata anche di tutti i sistemi di assistenza alla frenata, viso superamento della corsia molti molti accessori diciamo che sono di serie su questa vettura la Jets, piccola fuori, dentro è enorme i clienti che la utilizzano sono la miglior pubblicità per questa vettura provate a contattarli se conoscete qualcuno e capirete il perché Honda Jets è veramente il top della sua categoria un bagagliaio molto spazioso con i sedili posteriore sdobbiabili e poi ha anche un ottimo vano molto profondo sotto al bagagliaio e poi all'interno pensate che questo qui è il pannello porta posteriore guardate che bello e questi qua sono i sedili di una qualità eccellente venite a provare di persona e toccare con mano questa vettura capirete solamente allora il successo di questa Honda Jets cerchiamo di farvi passare la qualità tramite video o foto però non fidatevi di noi venite a toccare con mano e capirete ovviamente essendo nuova la vettura ancora da immatricolare ai sedili incelofanati quindi comunque ve li abbiamo già fatti vedere sono come quelli posteriori materiali ottimi questo qui è un ottimo cassettino porta oggetti oltre il cassettino sotto il bracciolo la vettura è dotata anche del sistema Achilles con i specchietti che si chiudono elettricamente con la chiave in tasca basta che toccate qua e vedrete che i specchietti si aprono e anche la vettura si apre vetri elettrici anteriori e posteriori gli specchietti che si chiudono anche elettricamente oltre che essere elettrici sbrinabili un quadro strumenti eccellente digitale a sinistra vedete la carica della batteria perché la macchina è full hybrid perciò decide lei comunque non potete decidere voi quando andare in energia elettrica e vi assicuriamo dei consumi eccellenti e a destra invece la benzina volante in pelle con tutti i comandi del cruise control adattativo perciò siedete voi a distanza dal veicolo anteriore che vi segue tutti i comandi sia del computer di bordo che della radio fari ad attivazione automatica a seconda dell'intensità della pioggia tergi cristalli automatici e poi il sistema infotainment potete vedere il navigatore satellitare sotto il climazzatore automatico due usb la cloche del cambio che non appena la mettete in retromarcia ovviamente in automatico appare la retrocamera poi appena tolgo dalla retromarcia si ritorna tutte le varie app di configurazione è un sistema secondo noi tra i più avanzati che c'è sul mercato in fondo i giapponesi e questa è una vera made in japan sono sempre stati i pionieri questo testino qua serve per riscaldare il volante molto comodo è difficile da capire se non lo provate per quello che vi invitiamo sempre a provarlo freno di stazionamento elettrico su B su D ovviamente in drive automatico su B rigenera molto di più la batteria perciò ricaricherà molta più batteria e lo vedrete sempre su questa colonina qua comunque poi sul computer di bordo trovate tutte le varie funzioni 8 anni di garanzia come potete notare è in promozione comunque contattateci sempre perché le promozioni sapete oggi ci sono domani non si sa la vettura ha 10 airbag ripeto 10 airbag e questo qui è il gioiello il propulsore ibrido sia elettrico che benzina ovviamente per convenzione le parti arancioni sono le varie parti elettriche guardate che disposizione riassumendo la vettura è nuova è una Honda Jazz 1500 bianco metallizzato vi aspetta qui da noi in AutoSmile noi vi aspettiamo ricordatevi sempre di contattarci prima di passare a trovarci così sarete certi che la vettura sia ancora disponibile per una prova su strada e vi invitiamo di contattarci provate le vetture anche se non sono pubblicizzate perché questa vale molto la pena